Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati ancora una volta in diretta con salvo5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà. Oggi è lunedì 12 ottobre 2015, una particolare ricorrenza, ecco come abbiamo già detto stamattina insieme a Giampaolo Pucciarelli, questo è il giorno in cui hanno, fra virgolette, scoperto l'America. E proprio da lì arrivano tanti dei nostri problemi, ahi noi. Probabilmente anche quello di cui parleremo adesso con il mio ospite che ringrazio e a cui do il benvenuto. Luigi Rusto, ciao, benvenuto su Salvo 5.0. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Web, sì, ma comunque sono sempre a distanza, quindi va benissimo. Allora Luigi, innanzitutto prima di fiondarci proprio sul tema Xilella, vorrei chiederti due parole su di te, ecco una autopresentazione per chi, magari ci sono alcuni che probabilmente ti conoscono pure, però per chi non doveste conoscersi fra gli utenti di Salvo 5.0, un breve profilo ecco di Luigi Russo. Vabbè, io sono un giornalista, ho lavorato anche però all'Università di Bologna in ambito della ricerca, quindi sono laureato in statistica e mi sono appassionato di questa storia della Xilella perché qui nel Salento ormai è diventato un problema grave, non dal punto di vista agronomico, già vorrei dire subito quello che penso, ma dal punto di vista del business. Avete fatto bene a mettere quel titolo Xilella, problema diciamo agronomico oppure di tipo business. Perché? Perché sono sempre stato molto attento, facendo il giornalista, a ciò che sono le tematiche che riguardano i beni comuni, i beni comuni, la salvaguardia e la difesa, quindi l'ambiente, ma anche le relazioni tra le persone, anche le cose che riguardano i rapporti tra le persone. Quindi non soltanto un giornalismo, come dire, di informazione statica, ma attenta a promuovere una cultura della responsabilità nei confronti delle persone ma anche nei confronti dell'ambiente. Quindi un po' un giornalismo attento a questa dimensione dei beni comuni. Poi ho fatto molta attività associativa, volontariato, sono anche presidente del centro servizi volontariato Salento di Lecce. Vuoi sapere altro? Bene, no, va bene. Per il momento credo che possa bastare. La mia unica curiosità, le tue attività giornalistiche le hai fatte con la carta stampata, radio, televisione, blog, in che modo? Con tutto, perché ho 30 anni di tessera giornalistica, quindi ho cominciato con la macchina da scrivere, con la Olivetti, poi sono andato avanti nel mondo, soprattutto in riviste di area cattolica a Bologna, ho lavorato. Poi mi sono trasferito qui nel Salento, ho fatto radio e adesso anche un po' di web anch'io, perché come comprenderai bene tu, web è molto importante, arriva ovunque. Quando mettiamo qualcosa su web arrivano come minimo 100.000 persone in pochissimo tempo. Certo, certo, certo. Ma tu sei originario di quelle parti lì? Io sono di qua, sì, sono del Salento. Sono nato in un paese che si chiama Corsano, che sta a 7 km da Santa Maria di Leuca. E posso dirmi una curiosità? Sono appena andato a fare il bagno al mare, quindi non so se si vede dai capelli. Ecco, questa è una cosa che forse avresti fatto meglio in andirci, soprattutto per tutti quelli di noi che sono magari nella zona un po' più fredda, più a nord. Ma io faccio il bagno anche a gennaio, quindi non c'è problema. Ah va bene, ok, allora è proprio tu che hai una tempra particolare da questo punto di vista. Ok, ok. Bene, intanto ti ringrazio perché hai scelto come, diciamo, teatro per questo nostro collegamento proprio un uliveto, mi pare di capire. Guardate un po' che bello, qui siamo in un uliveto, sono alberi non secolari, questi hanno una cinquantina di anni e sono in ottime condizioni. Volete vedere anche le olive? Adesso ve le faccio vedere, guardate un po' come sono belle le olive. Sono tutti così gli alberi in questa provincia, in questo momento, in ottime condizioni. Ok. Anche quelli che loro dicono che sono essiccati. Quindi sono tutte olive nere da quello che vedo? No, queste sono nere, sono una qualità, una cellina si chiama, poi ci sono anche altre olive, bianche. Queste sono olive da olio, quindi olio non da mangiare. Anche se sono belle grandi, quest'anno c'è proprio un raccolto straordinariamente ricco, nonostante tutti quanti i gufi che abbiamo avuto, che ormai era la fine, la fine, la fine. Invece gli alberi di olivo hanno dato questa roba qui. Quanto è mio occhio, non credete che sia piccola. Eh no, infatti, ecco, io ormai ho imparato, parlando con tanta gente, che le piante di olivo caricano un anno sì e uno no, è giusto? Sì, questo è un anno di quelli sì, è un anno sì, da questo punto di vista sì, però è un anno no, perché abbiamo il corpo forestale che le vuole abbattere, diciamo. Oh, e qui arriviamo, diciamo, al tema di questo nostro incontro, per il quale ti ringrazio ancora una volta. Bene, allora, io è già da diverso tempo, credo da oltre un anno, che da non esperto, da così osservatore, sento parlare di Xilella. Sì. Però, fino, diciamo, è chiaro che ho letto alcune cose, fra l'altro, anche del mio amico Davide Storelli, che anche lui è un pugliese, lui si trova dalle parti di Bisceglie, quindi voglio dire, anche leggendo alcune cose, appunto, grazie al web, ho cominciato a capire. Però, diciamo che poi, grazie a un utente che mi ha proprio sollecitato questo argomento, dicendo, Salvo, guarda che è un vero disastro, mi hai mandato alcuni link, video, dove c'erano degli agricoltori, anche anziani, proprio distrutti, che piangevano, eccetera, diciamo che ho acquisito, ho aumentato, diciamo, la mia sensibilità su questo argomento specifico, che finora mi aveva toccato, ma relativamente. A quel punto ho detto, sì, facciamo una trasmissione, ho chiesto a questo mio contatto, mi dai un contatto con qualcun esperto, mi ha dato il tuo numero e il tuo nome, e così è nata questa intervista. Ecco, potresti fare, per favore, un, come si può dire, un sommario, cercando di seguire l'ordine cronologico, per chi ci segue, magari ne sa poco o niente, quando nasce questo problema, in che modo l'avete scoperto e come poi si sono sviluppate le cose? Poi, magari ogni tanto ti interromperò in modo da andare in qualche punto più specifico. Cercherò di essere il più sintetico possibile. Allora, questo è un problema, la xylella si chiama xylella perché è un problema del sistema xylematico, il sistema linfatico dell'albero, dove la linfa da giù, dalle radici sale verso l'albero, quindi si ottura questo sistema xylematico e non arriva la linfa fino all'albero, fino alle foglie, quindi le foglie cominciano a seccare. Quindi il problema è il dissecamento dell'albero. Ma che cosa è che provoca questo dissecamento? Nella storia, diciamo, lo stress idrico può provocarlo, cioè avere problemi di acqua che sale fin su, oppure i funghi tracheomicotici che bloccano il passaggio della linfa, oppure anche batteri, come potrebbe essere quello della xylella o altri batteri. Allora, fino a due anni fa si è parlato di complesso del dissecamento rapido degli ulivi. Si chiama così perché è una cosa che si manifesta qui nel Salento, ma anche un po' in tutta l'Italia meridionale perché c'è un cambiamento climatico in atto molto grave e gli alberi si stanno riadattando e questo è il vero processo fondamentalmente. Fino a due anni fa si parlava di complesso del dissecamento. Si studiava come complesso, quindi c'erano una serie di cause insieme che giustificavano questo dissecamento. Quindi la xylella era una di queste. La xylella, ripeto, è un batterio da quarantena, uno di quei batteri che una volta che viene trovato l'Europa dice che bisogna abbattere perché questo è un batterio particolare che non si radica facilmente. Per questo, diciamo, c'è tutto questo problema. Quindi dal complesso del dissecamento tutto un tratto il Comitato Scientifico Nazionale che c'è dietro, che vigila sulla situazione dell'agricoltura nel nostro paese, ha deciso che qui era la xylella. Ma lo ha deciso per legge, non l'ha deciso dimostrandolo con dati scientifici certi. Infatti ad oggi non c'è nessuna ricerca scientifica al mondo che dimostra che la xylella, innestata dell'albero di olivo, provoca il suo dissecamento. Capite? Questa è una cosa molto grave, molto importante. Cioè mai nessuno ha dimostrato in laboratorio che mettendo il batterio dentro l'albero di olivo questo dissecca. E allora la domanda che tutti noi ci siamo fatti è questa. Ma come si fa a fare una teoria scientifica e quindi anche un processo distruttivo di un territorio, perché qui si parla di un milione di alberi che devono essere abbattuti su 11 milioni della provincia di Lecce, come si fa se non c'è un piano, una dimostrazione scientifica di questo genere? Facciamo un parallelo. È come se una persona dicono che ha un tumore maligno e non hanno le analisi del sangue o le analisi del corpo. E quindi il medico decide, avendo un tumore, di tagliargli la gamba. Si può fare una cosa di questo? No, penso proprio di no, perché se non lo facciamo con le persone non dobbiamo farlo neanche con la natura, con gli alberi in questo caso. Noi ci siamo accorti di questo vulnus gravissimo e abbiamo cominciato a combattere. Però si era messo in moto tutto un meccanismo legale che coinvolgeva governo, addirittura un commissario governativo è stato nominato per andare a risolvere questa emergenza grave che loro hanno chiamato e la cosa si è estremamente complicata. Ecco, non c'è quindi un piano scientifico certo e invece c'è una decisione certa che dice che bisogna abbattere gli alberi. A noi ci è sembrata una grande sproporzione questa, quindi ci siamo mobilitati. Il 29 marzo abbiamo portato in piazza a Lecce, a piazza Santoronzo, quasi 20 mila persone, abbiamo raccolto 30 mila firme, ma non c'è niente da fare. Si è innescato un meccanismo che è di una rigidità incredibile dove questo commissario ha detto la legge prevede che io devo abbattere e abbatto. Abbatto ma poi dopo metto anche della chimica perché questo piano prevede tonnellate di fitofarmaci buttati nel terreno perché in questo modo loro pensano di abbattere questa carica batterica. Allora ci sono la maggior parte degli scienziati che dicono che è una follia questo tipo di cosa, però il gruppo di scienziati che sta dietro questo comitato fitosanitario nazionale la pensa in maniera differente e noi stiamo in mezzo, noi cittadini, noi che abbiamo proprietà terriere, noi che abbiamo qualche albero di olivo stiamo in mezzo in questa diatriba scientifica dove prevale però il fatto che bisogna abbattere gli alberi. Non so se sono stato molto lungo, però vorrei dirvi che questi alberi, per concludere, sono stati dichiarati infetti con una legge, ma non con un'analisi di laboratorio e con una ricerca scientifica. Anzi, vi dico un'altra cosa, se vuoi interrompimi però. No, 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 allora va bene, visto che ormai mi hai dato questa opportunità, lo faccio giusto per cambiare anche l'inquadratura, però non sei stato affatto lungo, fra l'altro hai detto delle cose tutte molto chiare, quindi credo che a parte quelli che magari conoscevano già l'argomento ammenadito, per tutti gli altri quello che hai detto è stato molto utile. Ma c'è molto di più, Salve, c'è molto di più, però brutto e peggiore di quello che ho detto. E io ti prego, vai avanti perché alcune cose me le hai già dette l'altro giorno per telefono e vorrei che alcune di queste, almeno le più importanti, me le ripetessi, magari con calma andando di nuovo a me deriva di punto. No, ma guarda, per concludere, fino ad ora abbiamo parlato di scienza, non c'è una prova scientifica, ma c'è addirittura una sola ricerca invece che ha fatto uno studio di questo genere, fatta da professor Krugner dell'Università della California insieme a altri 20 scienziati che in America hanno la xylella da 130 anni e hanno somministrato per più di un anno negli alberi di olivo la xylella, alberi di olivo in laboratorio e hanno ottenuto che dopo un anno da questa somministrazione il batterio era bello che morto, hai capito? Quindi l'albero di olivo vuol dire che ha in sé la capacità di reagire. Di questa ricerca gli scienziati che sono dietro al Comitato Fito Sanitario Nazionale che quindi hanno messo in piedi il piano Silletti, così si chiama, dal nome del commissario governativo, non ci vogliono credere a questa ricerca. Ed è questa una cosa molto grave però, ecco. Quindi, secondo aspetto poi invece è quello giudiziario, legale, che se vuoi possiamo affrontare. Certo. Ma allora, innanzitutto vorrei che tu mi dessi un'opinione, a meno che per alcune delle cose che dici non hai anche, diciamo, delle prove, o perlomeno non puoi citare delle fonti, ecco, che provino quello che dici. Cioè, la tua convinzione qual è? Cioè, magari qualcuno di questi appartenenti al Comitato, di questa comunità scientifica, anche governativa, eccetera, potrà anche essere in buona fede, magari solo ignorante probabilmente. Ma è possibile che ci sia dietro anche invece un progetto? Ecco. Allora, il 27 di gennaio di quest'anno è uscito il terzo rapporto Agromafia, che è coordinato da Giancarlo Caselli, osservatorio nazionale per i crimini agroalimentari. Il primo capitolo quest'anno era sulla Xilella. Non so se questo è chiaro, diciamo, perché evidentemente c'è qualcuno che, ovviamente, la Procura di Lecce che sta indagando, anche altre procure stanno indagando. Qual è l'ipotesi di reato dell'indagine? Diffusione colposa di batterio che provoca distruzione del territorio. Quindi la Procura ha un'ipotesi di reato che sta cercando di dimostrare che qualcuno l'abbia fatto volontariamente. E qualcuno a questo punto potrebbe chiedere, ma siamo pazzi? Perché? Allora, quando io in un territorio provoco una batteriosi così grave, si innesca una serie di meccanismi. E quali sono questi meccanismi? Prima di tutto, essendo un batterio di quarantena, l'Unione Europea impone, secondo le sue leggi, di passare alle maniere radicali. Però ti manda gli aiuti. Fino ad ora si dice che sono girati intorno a questa faccenda e hanno abbattuto appena 200 alberi, 300 alberi, almeno 200 milioni di euro che vanno alla ricerca, che vanno ai laboratori di analisi. Immaginati su 11 milioni di alberi quante analisi si stanno facendo? Analisi, diciamo, per cercare di trovare il batterio, tra l'altro, ma neanche poi analisi approfondite. Loro fanno analisi delle foglie, le prendono, le mischiano, poi tra l'altro sembra anche che le fanno in maniera particolare. Ecco, quindi c'è tutto un interesse di un certo mondo scientifico e di un certo mondo dei laboratori che ovviamente sarebbe, come ti ho detto l'altro giorno, una sorta di Salerno-Reggio Calabria. All'infinito andrebbero avanti con ricerche, con analisi. Una batteriose di questo genere dunque attiva un flusso di soldi importantissimo che viene dal governo italiano e dall'Unione Europea. Quindi dalle stime che abbiamo fatto l'operazione globalmente potrebbe arrivare a un miliardo e mezzo. Non so se è una cifra che può far girare e può far girare anche la testa qualcuno e far fare anche delle cose particolari. Tu dicevi, il Comitato Fito Sanitario Nazionale, sai bene, e sa bene soprattutto chi lavora nell'ambito dell'università e della ricerca, che ci sono i baroni. C'erano e ci sono ancora i baroni. E quindi se uno vuole lavorare, se uno vuole continuare a lavorare, non si può mettere contro i potenti dell'università. E quindi molto probabilmente c'è una sorta così di rispetto del capo che deve andare avanti, che porta avanti le idee. Se il capo dice questa è la teoria, ovviamente chi è arrivato dopo, chi è suo allievo, chi eccetera eccetera, non può contraddire il proprio capo. Però quando è successo il problema? C'è un'ipotesi, infatti se tu prendi il rapporto agromafie, il primo capitolo, quello che ho scritto io, si dice che è successo un fatto nel 2010. Nel 2010 ti inventano all'università di Bari un seminario dal titolo Xilella fastidiosa. Mai successo nulla di questo genere nel Salento, in Puglia, mai stata presente la Xilella e guarda caso all'università di Bari inventano un seminario che vada a formare 40 persone esperte di Xilella. La cosa non puzza secondo te? Scusami, ma aspetta, ti faccio una domanda provocatoria. Ma nel 2010 ancora tutto quello di cui stiamo parlando non era venuto fuori? Non c'era niente. Nel 2013 è stato il countdown arrivato. No, nel 2013 hanno detto bene, è arrivato il momento, dobbiamo far sapere al mondo che c'è la Xilella. Quindi potremmo dire che chi ha organizzato questo seminario è stato particolarmente lungimirante, diciamo così? Diciamo che è da almeno dieci anni che ci sta lavorando, se dietro a questa storia qui c'è un dell'osco fondamentalmente, però io non è che sono un giudice che posso dimostrare, sono delle ipotesi che noi abbiamo e sappiamo che sono delle ipotesi che vengono esaminate dalle procure, dalle diverse procure che si stanno interessando. Poi le prove ci vogliono, non sto facendo né nomi né altro, sono teorie che noi abbiamo perché a me, comunque rimango sul fatto della cronaca, a me è sembrato strano da subito, pensare che in una regione dove non c'è la Xilella tutto un tratto l'Università di Bari, che è la più grande università della Puglia, decide di fare un seminario sulla Xilella. Chi gli ha chiesto? Che per caso aveva intuito che poteva arrivare la Xilella? Tra l'altro la Xilella è soggetta a controlli massicci al porto di Rotterdam per esempio dove vengono importate le piante che vengono dall'America, come tu dicevi prima dall'America probabilmente deve essere venuto, c'è un controllo massiccio. Allora cosa vuol dire che l'Unione Europea non ha controllato? Tu sai che oggi si parla di problemi, di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ma la procedura di infrazione nei confronti degli organi di controllo dell'Unione Europea non c'è nessuno che la chiede, per esempio il nostro Ministro perché non la chiede? Perché non va a chiedere i danni all'Unione Europea perché non ha fatto gli opportuni controlli. Insomma è una storia un po' particolare, nel 2010 dicevo c'è questo seminario, formano 40 persone, dopo tre anni si scatena, si può dire, l'ira di Dio e quindi escono comunicato stampa dell'allora Regione Puglia con Nichi Vendola, dicono c'è una batteriosi, è una batteriosi gravissima, dobbiamo abbattere gli alberi, un milione di alberi di olivo, però non vi preoccupate cari contadini che ci saranno i risarcimenti, quindi questo è stato i soldi, money, 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 infatti c'è stata per esempio l'altro giorno l'interrogazione di un deputato salentino in Parlamento che al Ministro ha detto l'importante è che ci date i soldi, quindi è proprio un giro di soldi che si deve scatenare. Ora, se il paesaggio viene distrutto, immaginatevi, qua si parla di desertificazione, nel senso che non è che vengono abbattuti soltanto gli alberi di olivo, c'è una pianta infetta? Intorno a quella pianta per un raggio di 100 metri deve essere abbattuto tutto, tutto, ma tutto, fino alle cime di rapa devono essere abbattute, hai capito? Perché sono possibili soggetti che vanno, questa cosa che non la sanno in Italia, non la sanno tutti quanti, ma 150 specie di vegetali devono essere totalmente abbattute, compreso l'oleandro, compreso il mandorlo, tutto, quindi deserto, immaginatevi cosa può essere, insomma, in un territorio come questo, dove c'è la più grande foresta di olivi d'Italia. Per questo noi siamo molto incavolati, non molleremo e stiamo facendo una pioggia di ricorsi al Tar. Ogni volta che facciamo il ricorso al Tar, il Tar sospende, perché, per quella cosa che ti ho detto prima, non c'è un piano scientifico alla base di tutto questo piano silletti. Ecco, caro Luigi, ti ringrazio molto, vorrei dirti una cosa, io quando vedo qualcosa di strano che non riesco a comprendere, mi faccio sempre la stessa domanda, cioè cui protest? No? Cioè, a chi conviene questa cosa? No? In siciliano diciamo a cui ci conviene, ecco, che poi è molto simile a Leccese. Si dice pure qua. Esatto, lo so, lo so, perché il Leccese con il Ragusano sono quasi identici. Ecco, e alla fine, proprio mentre mi facevo questa domanda, ascoltando il tuo racconto, leggo alcuni commenti nella chat di persone che evidentemente per esempio, Simone, ascolta cosa scrive Simone? La Monsanto acquisisce una nuova azienda nel 2008, chiamata Alleli X. Sì, la Xylella all'immerso. Esatto. Cioè che è letta al contrario quasi come Xylella, ossia il nome del virus, lui parla di virus, in effetti credo che sia un batterio, comunque questo non è... Cioè Simone sta dicendoci che ci stanno pure prendendo per i fondelli, capito? Come se noi siamo dei cretini che non capiamo niente, ma noi abbiamo capito proprio tutto invece. Abbiamo proprio capito tutto. Ecco. E quindi praticamente, insomma, probabilmente c'è un certo legame, perché questa sennò sarebbe una coincidenza da far sbellicare a delle risate se non fosse tragica. Ma loro dicono che noi siamo complottisti, però in realtà pensare male a volte ci si prende e questa volta ci stiamo prendendo in pieno, perché vediamo chi sono i movimenti che ci sono, vediamo anche gli interessi giudiziari che ci sono dietro, capito? Il Tar del Lazio tutte le volte che siamo mandati a sospeso, quindi vuol dire che i giudici attenti, come quelli della Procura di Lecce a dire la verità, sanno. Ovviamente però di avere le prove per condannare qualcuno oppure per fare il giudizio. Questi hanno fatto un delitto quasi perfetto. Certo. Perché ci hanno lavorato, dicevi, a cui il protesto. Vabbè, ti ho detto già prima, un mondo della ricerca, certo un mondo della ricerca che veste i soldi, e poi anche quello diciamo... Scusami Luigi, Luigi, perdonami. L'interesse è ammetterci delle piante geneticamente modificate, che tu espianti tutto e poi veramente c'era un piano dieci anni fa che prevedevano l'abbattimento degli olivi e poi la semina di piante per fare il diesel biologico. Quindi ovviamente l'interesse è chi vuole mettere l'investimento dell'economia. Quindi imprenditori. Poi se abbassi gli alberi, tu vieni dalla città, sei benvenuta. Eh, Luigi, scusami, Luigi, perdonami. Potresti tornare indietro verso la macchina? Perché adesso ti sei spostato in una zona dove la copertura è molto scadente. Mentre prima arrivavi... Adesso dove va? Eh, ancora non bene. Mentre prima arrivavi proprio in full HD. Quindi se potessi tornare indietro sui tuoi passi... Sì, io mi sono paura che ho un momento proprio di segnare... Eh, in questo momento ti sento proprio attratti. Eh, proviamo a fare la richiamata, magari, con ti un po' di... Allora... Eh, non ho capito quello che hai detto. Provo a chiudere e a richiamarti, va bene? Scusate, cari amici, come vedete il collegamento andava benissimo fino a pochi minuti fa. Poi purtroppo... Eh, poi purtroppo invece... Salvo, mi senti? Sì, adesso sì. Prova ad accendere la telecamera. Eh, io l'ho accesa. Ok, sì. Sì, si era accesa ma si era rispenta. Ok. Eh, purtroppo adesso invece Skype vedo che non riesco a mandarti il ritorno. C'è qualche problema con Skype. Comunque... Mi senti tu? Sì, sì, ti sento. E adesso ti comincio a vedere anche meglio rispetto al momento finale. Allora, eh... Sì. Ti volevo leggere ancora un altro commento di Simone che mi pare che si colleghi a quello che tu mi dicevi al telefono l'altro giorno. Allora, dice... Una coincidenza. Il metanodotto Snam passerà dai focolai Xylella. Sì. Meilendugno Torchiarolo. I possibili tracciati del metanodotto. Tu mi dicevi l'altra volta che questi focolai sono un po' a macchia di leopardo. Cioè, ce n'è uno qui, uno lì, a distanza magari di 30 km. Mi dicevi anche un'ipotesi strana di come questo batterio possa trasferirsi da una piantagione o un'altra senza invece impiantarsi anche in tutto quello che ci sta in mezzo. Mi puoi rispiegare questo? Ti spiego subito, guarda. Come dicevo prima, quando forse magari si è interrotta ci sono anche interessi per liberare aree e fare costruzioni perché non a caso questa Xylella si è insediata nella zona più bella di Gallipoli. Non so se conoscete Gallipoli, ma Gallipoli ha un grosso bisogno di terreni per edificare e il primo focolaio si è manifestato proprio nella zona di Gallipoli. E poi stranamente questo batterio della Xylella che cosa ha fatto? Ha preso l'aereo probabilmente e si è spostato a 50 km di distanza e è andato a finire a Doria. E' una cosa molto strana perché se io ho un batterio e lo attacco a mio figlio, mio figlio sta a contatto con me. Quindi sì, la diffusione dovrebbe essere a macchia d'olio, non a macchia di leopardo, a saltare 50 km. Questo batterio non si sta diffondendo con una diffusione a macchia d'olio che ti devo dire ha la velocità di un chilometro all'anno. No, si sta diffondendo dove gli pare, dove gli è più simpatico per esempio. Si diffonde da Gallipoli dove c'è bisogno di costruire le case, poi va a Oria dove passa l'oliodotto, il gasdotto TAP, poi ritorna a Torchiarolo dove passa TAP e insomma cominciamo a pensare che ci stanno, io credo che ci stanno un po' prendendo per i fondelli perché loro pensano che magari siamo stupidi. Io lo capisco, la gravità di una batteriosi, la comprendiamo, capito? Però non è che è una batteriosi, come si dice, a piacere, no? Mi piace fare una cosa e ne faccio un'altra. Questo batterio che loro dicono come mai, abbiamo chiesto, ma come mai non si sposta a macchia d'olio? Hanno detto perché è un batterio autostoppista, ma guarda che è scritto proprio così, autostoppista. Cioè tu arrivi qui nel Salento con la tua giacca, ti appoggi all'albero, vai a Milano e attacchi il batterio a Milano. Questi sono arrivati a teorizzare queste fandonie perché non so che cosa siano. Cioè io credo che bisogna proprio avere una grande fantasia per inventarsi delle cose di questo genere. Il batterio autostoppista, ma dai, mi ha fatto ridere la prima volta ma adesso mi fa piangere perché oggi hanno abbattuto 270 alberi di olivo, capisci? Quindi su questa teoria assurda e inconcepibile. Ma Luigi vorrei farti una domanda in modo di essere ancora più chiari se è possibile. Allora, tu hai spiegato che sicuramente dietro tutto questo affare ci sono tanti soldi. Addirittura mi pare tu abbia detto che in ricerche varie 200 milioni. Fin ad ora si sono ciucciati 200 milioni. 200 milioni. Non sono andati ai contadini, sono andati soltanto a laboratori e bla bla bla. Certo, ecco, quindi sicuramente ci sono dietro i soldi. Però il mio sospetto, e vorrei una tua conferma, è che i soldi non siano il fine ultimo, ma semmai il mezzo per portare a termine il programma. Ma il programma probabilmente è ben diverso. Magari quello di liberare il terreno dove fare l'oleodotto, oppure quello proprio di desertificare, una vera e propria guerra chimica. Cioè, io non credo che sia solo un problema per rubarsi dei soldi, perché ci sono metodi ancora più facili. Secondo me quegli soldi sono solamente uno strumento per arrivare ad un obiettivo ancora più grande. Tu che ne pensi? Senti Salvo, io ti dico una cosa, tutto il meridione è sotto scacco, diciamoci la verità, perché la porta del Salento è una porta che apre ad altre situazioni. Non credo che sia probabile che nel futuro si manifesteranno situazioni di questo genere anche in altre aree del sud, perché c'è bisogno di sbocchi per un certo tipo di edilizia, per infrastrutture e per tutto il resto. Poi c'è bisogno anche di cambiare l'agricoltura, perché l'agricoltura del meridione è un'agricoltura ancora arcaica ed è bellissima questo tipo di agricoltura perché conserva anche un paesaggio stupendo. Quindi l'insidia non è soltanto alla Puglia, la Puglia è una porta per aprire un qualcosa che poi si dovrà diffondere altrove. La metodologia che hanno utilizzato, che è quella del batterio, è una metodologia che poteva anche essere un'altra. Se vuoi capire bene una cosa, c'è stato un convegno nel 2013 circa, due anni fa, a Barcellona, dove hanno messo in evidenza l'agricoltura, l'olivicoltura mediterranea come dovrà essere nel futuro. Significa che questi vogliono fare un'olivicoltura di tipo intensivo, cioè abbattere gli alberi che ci sono e fare degli alberi tipo dei vitigni, ma questo lo faranno, potrebbero o vorrebbero fare in tutta l'Italia meridionale. Quindi la Puglia è una porta che apre un qualcosa, una trasformazione dell'agricoltura. Questi alberi che vogliono impiantare sono alberi modificati geneticamente, che servono per dieci anni e poi dopo dieci anni vengono abbattuti. Mi spiego? Tipo la stessa storia dei semi. Se tu compri il pomodoro adesso, prendi il semi del pomodoro, lo ripianti e non cresce più. Devi rivolgerti a loro per comprare le piantine. Ma le multinazionali hanno questo tipo di teorie. Insomma, è una grande festa fondamentalmente, dove ci guadagnano le multinazionali, che ovviamente si impossessano e colonizzano un territorio e cambiano la sua storia, la sua cultura e la sua agricoltura. Si impossessano di soldi gli affaristi da quattro soldi che abbiamo. E nel meridionale ce ne sono tantissimi. Io sono un meridionale, te lo posso dire. Qua c'è una fame di soldi. Ma mica chi non ce li ha, ma chi ce li ha già, con le strade, le autostrade, con l'edilizia, con l'abusivismo, cose di questo genere. E si avvantaggia, terza cosa, terzo soggetto, anche chi fa ricerca, evidentemente, che ne avrà ricerca e analisi, laboratori di analisi. Non so, cui protesto ti ho risposto. Ah, direi di sì. Luigi, ti faccio un'altra domanda, perché ci consentirà di aiutare a capire ancora meglio per qualcuno che evidentemente non ne sa molto. Perché la domanda è corretta per uno che non conosce i dettagli. Arriva da Giancarlo, che dice, ma allora, se non è la xylella, cos'è che distrugge gli olivi? Allora, vogliamo spiegare bene... Chi l'ha detto che li distrugge gli olivi? Bravissimo, vuoi spiegare per favore qual è il reale impatto? Come si chiama? Giancarlo si chiama. Giancarlo, allora, gli alberi di ulivo presentano dei dissecamenti. Gli unici alberi di ulivo che possiamo considerare distrutti o apparentemente distrutti sono quelli della zona di Gallipoli, dove devono costruire dei grossi villaggi turistici. Lì ci hanno buttato sostanze chimiche a go-go un anno preciso, nel 2010 e probabilmente anche un mese preciso e su questo sta indagando la procura. Le altre situazioni che si manifestano, che sono qui in provincia di Lecce, ma sono anche in altre province della Puglia, ma anche in altre province dell'Italia meridionale, sono fenomeni di dissecamento provocati o da stress idrico della pianta, o da funghi tracheomicotici, o da terreni che non hanno più sostanza organica. Quindi un complesso di cose che per risolvere basterebbe ritornare a fare un'agricoltura migliore. Infatti gli alberi qui in provincia di Lecce, curati da professor Xilo Iannis dell'Università della Basilicata e Scortichini, quella di Caserta e Roma, sono tutti quanti guariti. Quelli che erano morti, considerati morti, che hanno fatto vedere anche all'Unione Europea, con zinco, rame, eccitrato e buone pratiche agricole, si sono tutti ripresi e hanno fatto le olive. Però la macchina del fango e la macchina dei soldi è già partita e per poterla affermare ci vuole soltanto, purtroppo oggi, Tar e Consiglio di Stato. Non abbiamo alternative, noi possiamo fare tutte le manifestazioni di questo mondo, ma per abbattere una legge folle ci vuole soltanto il Tribunale Amministrativo Regionale. Perché per abbattere invece i dissecamenti degli alberi basta soltanto averne cura. Ecco Luigi, io sono andato sul tuo profilo Facebook perché volevo cercare uno dei video di cui parlavo prima e cercando cercando mi sono imbattuto in un post dove si parla di questo ragazzo Giuseppe Spagnolo che praticamente pianta un ulivo disobbedendo. Ecco, questa può essere una delle modalità con cui gli agricoltori, i cittadini possono difendersi disobbedendo. Cioè se io nel mio terreno cosa rischio? Io che sono proprietario di uno di questi terreni dove ci sono degli ulivi che dovrei abbattere secondo queste direttive eccetera eccetera. Cosa posso fare? Cosa rischio? Ovviamente pare che Giuseppe se ne strafreghi di quello che rischia. Non so, visto che ha lanciato il ditto medio quindi evidentemente mi sembra che sia abbastanza chiaro. Perché questi nel piano Silleti si sono inventati anche che oltre ad abbattere e a trattare con i fitofarmaci con tre volte consecutive bisogna anche mettere il divieto di reimpianto. Quindi non ci si può neanche piantare più nulla, quindi deve rimanere deserto. E allora la disobbedienza è riferita a questo, voi abbattete i nostri alberi, noi non siamo degli assassini, non vi prendiamo con i fucili però disobbediamo e ripiantiamo gli alberi. C'è anche un bambino che ha piantato un albero ieri e che è stato fotografato. Che vengano ad arrestarci, che cosa possiamo farci? Però queste cose succedevano ai tempi dei regimi, dei dittatori, degli imperatori, ma non adesso. Qua siamo in democrazia, qualcuno se l'è dimenticato che in democrazia devi avere anche le prove e devi avere la certezza scientifica prima di poter fare qualcosa. Vi ho detto prima, se è un malato non sei certo che la sua gamba ha un cancro, non glielo tagli, ti taglio la mano. Se sbagli. In questo caso vedrai, secondo me, di xylella quanta gente si farà male quando un giorno la verità vada fuori. Perché la verità la intuiamo oggi, ma non abbiamo per troppo le prove perché io sono un semplice giornalista, non sono mica un PM. Però i PM ci stanno lavorando da due anni, hanno chiesto successive proroghe perché, ripeto, è un delitto perfetto quello che stavano costruendo. Ma ce ne siamo accorti e vedrai che prima o poi vinceremo. Luigi, mi puoi aiutare? Mi puoi dire qual è la data dove c'era quel video breve ma dove si vede quell'agricoltore? Che è veramente molto, molto significativo. Che l'agricoltore è quello che piange? Sì. Ma anche quello che è stato pubblicato oggi ce n'era uno. Oggi c'era una signora che parlava di raggiri, capito, e quindi... Ok, ok, va bene. Perché vanno a casa delle persone, li costringono a firmare gli atti, la gente si rifiuta e li minacciano di denuncia, cose dell'altro mondo. Ma non stanno in nessun diritto queste cose qua, capito? Sono cose proprio assurde che noi abbiamo segnalato anche alle procure, ai carabinieri. Quindi intervengono i carabinieri a difesa delle persone. Siamo proprio nella follia più grande, insomma. Io ho detto che siamo nell'ottica della psichiatria, probabilmente, perché quando un piano prevede questa cosa, distruggere per salvare, mi sembra che ormai siamo nella psichiatria piuttosto che nel settore agronomico e dell'agricoltura. Psichiatria. Senti, questo video dell'8 ottobre, possiamo fermare la mattanza degli ulivi del Salento, bisogna agire ora. È un video dove si vede il tuo viso, 20.000 visualizzazioni. Sì, penso che sia quello, sì, sì. Quello lì è... Forse è per la raccolta fondi, ma c'è anche questo signore che piange. Sì, quello là è. Vediamo, vediamo. Questo qui... Sì, dura due minuti, dai. Guardiamo questo video, eh. Eccolo. Non lo sto dicendo adesso, sono convinto che ci voglio distruggere, il lavoro di una vita. Il lavoro di una vita va a finire. Questa cintaglia qua che ci gira intorno. Che ne capiscono l'uomo dell'agricoltura. Ci devono vivere. Con le piante ci devono vivere, capito? Quando piange un bambino è comprensibile, bisogna educarlo, bisogna cercare di fargli capire la verità. Ma quando piange un vecchio vuol dire che gli hai strappato l'anima, gli ha strappato la sua storia, la sua cultura e quello che i padri gli hanno lasciato. Mi chiedo a volte come è possibile che persone così importanti, come un ministro, come un generale, come un professore universitario, non possano capire che c'è un limite oltre il quale non bisogna andare, che è quello della sofferenza e del male interiore delle persone. Noi stiamo cercando di alleviare questo dolore e a queste persone che non hanno neanche le risorse forse per poter combattere contro uno Stato che impone una legge che è apparentemente ingiusta o contro le forze dell'ordine che vengono in casa loro, stiamo opponendoci con le armi della legge. Aiuteremo queste persone a fare ricorsi al Tar e stiamo facendo questa raccolta fondi proprio per dare una mano a loro a uscire fuori da questa situazione assurda, inconcebibile, inaspettata, che mai si era verificata nella storia del Salento se non al tempo degli imperi. Bene, io ringrazio Luigi per questo bellissimo... Mi sto facendo vedere degli alberi di ulivo di quelli che vogliono abbattere, capito? Questi assassini che cosa vogliono fare? Vogliono abbattere questa roba qui, dai, perché altro non posso dire. Questo signore, l'agricoltore, ha detto cosa ne capiscono loro di agricoltura? Loro soltanto sono seduti alle scrivanie, possono pensare questo o quell'altro, ma questi alberi stanno bene, come fai ad abbatterli, dai, per piacere? È veramente una cosa drammatica, nella sua assurdità, nella sua stupidità, veramente. Io credo che l'essere umano ormai, come hai detto tu, sia veramente a livello proprio di malattie psichiatriche, non si può spiegare in altro modo, cioè solamente o per un oleodotto o per fare una vera e propria guerra chimica di distruzione, perché questo forse fa parte del piano Calergi. Io non lo so, veramente, non ho parole, però ecco, vedere certe cose, sentire certe cose, mi fa veramente ribolire il sangue nelle vene. E io vorrei dire una cosa, spero che ci siano tanti fratelli pugliesi in ascolto in questo momento, o che comunque vedano questo video anche indifferita. Vi prego, resistete, piantate un albero e fate il ghigno, come ha fatto quel ragazzo Giuseppe. Ecco, questa è l'unica arma, perché secondo me andare in galera per aver piantato un albero nel proprio terreno, beh, è un atto onorevole, ecco, non bisogna vergognarsi di andare in galera per aver piantato un albero o per non aver estirpato un albero. Ecco, quindi questo, se io vi dico una cosa, se io fossi un agricoltore, se io avesse un terreno con degli olivi e venisse qualcuno con un pezzo di carta da firmare per estirpare, io li manderei a quel paese, direi dovete passare con la ruspa prima sopra di me e poi sopra i miei alberi. E spero che siano tanti pugliesi che prenderanno questa strada, perché è assurda, è veramente una cosa assurda, nella sua stupidità, nella sua miopia, non lo so, non mi vengono altre parole. Noi comunque stiamo facendo qualcosa di più, perché noi crediamo e rispettiamo la legge, stiamo facendo una pioggia di ricorsi al TAR per bloccare questo piano folle e se qualcuno vuole partecipare anche con 5 euro, 10 euro a questa raccolta che stiamo facendo, lì ci sono, se vuoi dare anche via web, le modalità per poter fare qualche donazione. Stiamo ricevendo donazioni di 10, 20 euro, 30 euro da Brescia, da Pordenone. A Pordenone hanno raccolto 1900 firme domenica scorsa, li hanno portate al prefetto, cioè è in tutta Italia, che ama il Sud, che ama il Salento, che ha capito che dietro questa storia c'è soltanto una follia di qualcuno che vuole fare i soldi, ma li facessero i soldi come si fanno solitamente, facendo delle imprese, facendo imprese, ma non andando a distruggere un territorio per piacere. Ecco, Luigi, vuoi dare i dettagli su questa raccolta? Se io volessi fare una donazione, cosa dovrei fare? Guarda, se andate sul mio profilo Facebook c'è tutto quanto, se no andate su www.csvsalento.it e trovate, diciamo, sulla destra le modalità per la donazione, non sapete dire altri modi. Oppure c'è un IBAN che si può copiare, se magari puoi indicarlo tu, lo trovi lì nel post che hai appena visto, in basso. C'è un IBAN dove si può fare una donazione, è un'associazione che sta raccogliendo i fondi. Mi puoi dire di nuovo ancora una volta il sito, per favore, www.csvsalento.it Benissimo, io così, ecco qua. Bene, csvsalento.it Quindi, cari amici, informatevi se desiderate fare una donazione anche di pochi euro per supportare questa battaglia dei nostri fratelli Salentini e Pugliesi in generale. E veramente, io spero che presto Luigi possa farmi una telefonata per dirmi, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a trovare. Li abbiamo arrestati. Li abbiamo arrestati. In entrambi i sensi, sia nel senso di fermarli che nel senso di proprio magari mandarlo in galera pure qualcuno. Però io posso dire un'altra cosa. Certo. Stiamo attenti, tutte le regioni meridionali, siamo sotto scacco e questi pensano di poterci colonizzare. Svegliamoci, un po' di orgoglio noi del Sud che abbiamo testa, intelligenza, perché non è una questione che riguarda solo il Salento, ormai me ne sono convinto. È una questione che comincia da qui, è una porta che si apre per trasformarci. Qualcuno si enricchisce, ma noi perderemo le nostre terre. Esatto, esatto. Credo che sia chiaro. Andiamo a vedere gli ultimi commenti che sono arrivati in chat per capire se le persone mi vengono in mente prima Giancarlo. Ecco, caspita, ci sono dieci commenti. Allora, vediamo se c'è magari la risposta di Giancarlo che adesso dopo tutto... Ecco qua. Ecco, lui dice, infatti io sono di Gallipoli. Grazie Luigi e Salvo. Ecco, quindi credo che adesso abbia le idee più chiare. Ecco, intanto che non c'è nessuna distruzione e che quegli alberi che sono veramente stati bruciati, sono stati bruciati, ma non con l'axilella, proprio con altri agenti chimici proprio per far pensare... Agente Orange, oppure Paracuat, si chiama che è fuori commercio. Così, quegli effetti li provocano così. Però digli a Giancarlo, se è ancora in linea, che quegli alberi sono stati curati da Scortichini e da altri, sono docenti universitari, si sono ripresi e hanno fatto le olive quest'anno. Però quelli dove gli hanno permesso di curarli, la maggior parte li hanno fatti abbassere, ovviamente. Questo purtroppo è una cosa molto grave. Ma comunque ricordiamoci che se la loro teoria non è corretta, ne risponderanno davanti alla legge, perché poi dopo i furbi, insomma, abbiamo messo in carcere tanta gente più furba. Certo, guarda, c'è per esempio populista che dice il piccolo disseccamento c'è sempre stato e sempre ci sarà. Spetta all'agricoltore mettere in pratica le buone pratiche agricole e ripulire periodicamente gli alberi. Certo, certo, ma anche i batteriosi, i funghi si curano con zinco, rame, non ci sono. Cioè, i bravi agronomi sanno come fare e anche i contadini, soprattutto i contadini sanno. Quell'anziano che hai fatto vedere dice, ma che ne sanno loro dell'agricoltura? Con le piante ci devi stare, capito? Loro sono stati a fare teoria davanti ai computer, insomma, magari sono anche bravi da punto di vista scientifico, hanno studiato, però evidentemente sono inefficaci per abbattere, per combattere il complesso del dissecamento rapido degli olivi. Non lo sono capaci. Ah, l'ultima cosa che volevo dire, il teorico di questa cosa è un certo professore dell'Università di Bari che si chiama Martelli, è un virologo e invece questa è una batteriosi. Questo vi fa capire. Tu vai dal ginecologo per curarti i denti, insomma, una cosa di questo genere. Sì, 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 chiaro, chiaro. Guarda, c'è, a proposito di chiaro, c'è Chiara che scrive, evidentemente si è collegata da poco, dice, è vero che c'è l'ipotesi che il tracciato del metanodotto Snam collegato al TAP passi proprio nella zona degli alberi affetti da Xylella? Cara, Chiara, la risposta è assolutamente sì, lo abbiamo detto prima che tu ti collegassi e comunque gli alberi veramente affetti da Xylella, solo una minima parte, ma la maggior parte degli alberi sono stati bruciati, come hai appena sentito, perché l'ha detto pochi minuti fa, proprio da agenti chimici diversi dalla Xylella. Ma guarda, i dati rappresentati, questo non l'abbiamo detto, questa è una cosa importante, i dati rappresentati il Ministero stesso, da 27.000 controlli che hanno fatto risultano positivi alla Xylella soltanto 600, quindi 27.000 apparenti risseccamenti solo 600. Allora, scusate, ma che ci stiamo prendendo in giro? Se la Xylella deve essere in 27.000 alberi, invece l'hanno trovata soltanto in 600. Insomma, avevano fretta di fare soldi, hanno trovato questo metodo, e questa è la verità. Eh sì, dobbiamo fermarli. Esattamente questo. Guarda, infatti c'è Alessandro che dice, la situazione di cui state parlando adesso è la conferma di quanto diceva Pucciarelli stamattina, stamattina ho fatto un'intervista a uno storico, questa in cui stiamo vivendo oggi è la vera dittatura, questa è la democrazia targata USA, ecco. Sì, sì, colonizzazione si chiama in un altro modo. Colonizzazione, esattamente, esattamente. Ma li fermiamo, non vi preoccupate, noi non siamo per niente scoraggiati, perché abbiamo messo in piedi anche un apparato di difesa importantissimo e sono convinto che stanno scricchiolando le loro sedie, loro stanno tremando in questo momento, questi artefici di questo piano. Poi un'altra volta magari se vuoi parliamo anche dei nomi quando saranno più chiari, ma ci sono, sappiamo già chi sono i nomi, quindi non è questione, non possiamo dirli perché la procura sta indagando. Nomi, cognomi, politici che stanno in Unione Europea, in Parlamento, eccetera, eccetera. Noi siamo molto furbi, per fessi non ci prendono. Luigi, io ti ringrazio infinitamente per la disponibilità, quindi fin da ora ti invito non appena hai novità, per esempio le indagini che sono concluse e quindi potremo anche fare i nomi. Guarda che noi su questo canale, non credo che tu abbia avuto il tempo di vedere le cose che ho fatto, ma noi qui non abbiamo paura a fare nomi anche molto in alto, quindi quando è il momento, ti prego, tieni presente che c'è questo piccolo canale di informazione, piccolo ma libero e indipendente, e qui possiamo fare tutti i nomi che vogliamo. Grazie Salvo. Grazie a te. Saluto a te e tutti gli ascoltatori e telescoltatori. Grazie, un abbraccio, stammi bene, chiudi pure visto che stai in...